Partiranno a gennaio i corsi di counseling promossi dal Centro Camigliano di Formazione a Verona e a Milano. Novità di quest'anno, un corso di counseling per psicologi. Allora, bisogna considerare che chi è psicologo perché si è laureato in psicologia e ha fatto un esame di Stato, è abilitato a intervenire laddove ci sono problematiche umane, ma spesso ha bisogno di ulteriori corsi di formazione, che possono essere formazione in psicoterapia se una persona vuole curare fattori e disturbi patologici, può essere in psicologia del lavoro se una persona vuole entrare come psicologo nel campo della formazione e selezione del personale. C'è tutta un'area di persone che hanno un disagio ma non una patologia, quindi problemi relazionali, problemi di coppia, problemi nel mondo del lavoro, di rapporto con i colleghi, problemi di orientamento a cosa fare nella vita, problemi di scelte lavorative, problemi familiari in senso più generale, che si prestano ad un'azione di counseling, cioè a un intervento di uno psicologo adeguatamente formato, con capacità di colloquio e di diagnosi, quindi in grado di distinguere dove ci fosse patologia, che è in grado di accompagnare con strumenti psicologici, anche testistici dove servisse, una persona, per affrontare quei disagi normali della vita che comportano però non una psicoterapia, ma un percorso di counseling anche breve, più che sufficiente per queste situazioni. Tra i corsi sul counseling proposti dal Centro Camigliano di Formazione, oltre a quello per psicologi, c'è il corso triennale di counseling professionale e il corso biennale o triennale di counseling pastorale. Parliamo di risorse che vengono offerte a delle persone perché possono essere in grado di aiutare quanti si trovano in situazioni di disagio e che vogliono superare quel mal di vivere che è abbastanza frequente anche nella vita ordinaria di una persona. In particolare il counseling che tipo di applicazione ha? Il counseling può essere applicato ad una varietà di settori, nell'ambito sanitario, nell'ambito scolastico, nell'ambito aziendale e può anche essere di aiuto a tutti coloro che vivono situazioni difficili, per esempio una situazione di lutto, oppure un conflitto a livello familiare, oppure a livello anche personale, o anche a livello esistenziale, a livello spirituale.